I dispositivi moderni, si sa, sono incredibilmente comodi in mobilità perché sono soprattutto versatili e ora lo saranno ancora di più grazie all'aggiornamento di aprile di Windows 10. Avvicinati ad un campo di testo e cliccaci sopra con la tua pena digitale. Scrivi direttamente nella finestra che apparirà e Windows Ink tradurrà la tua grafia in testo. Controlla dalle impostazioni di aver attivato la funzione. Dallo stesso pannello, inoltre, potrai anche personalizzare la funzione e migliorare manualmente il riconoscimento della tua grafia da parte del tuo PC.